Benzo Piatti, direttore commerciale di Intesa San Paolo. Innanzitutto le chiedo quali sono gli obiettivi di Resto al Sud? L'obiettivo è sostenere i giovani imprenditori abruzzesi negli oggetti imprenditoriali e farli rimanere in abruzzo attraverso agevolazioni fiscali semplici e efficaci. Perfetto, a chi è rivolto principalmente? È rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni che vogliono abituare un'attività imprenditoriale con agevolazioni fiscali. Che vantaggi potrebbe trarne chi è interessato? Vantaggi di un contributo in conto capitale nella misura del 35% e un contributo in conto interessi sugli interessi pagati sulla differenza del 35% sul 65%. Oltre ad avere un orientamento da parte dell'Agenzia Initalia, da parte di Intercredit, da parte della Banca di Intesa San Paolo sul progetto di imprenditoriale.